Ciao, sono Pasquale e quest'anno, grazie a Intercultura, parteciperò a un annuale negli Stati Uniti, precisamente in California, a Paso Robles, nel liceo Paso Robles. Ciao, sono la mamma di Pasquale. Io ringrazio Intercultura perché dà la possibilità a questi ragazzi di frequentare un anno all'estero e che gli darà la possibilità di crescere e di avere molte cose dalla vita. Spero che in quest'anno maturerò mentalmente e apprenderò il meglio della cultura americana, ma anche delle altre culture che si presentano negli Stati Uniti, come messicana, africana. Sono molto contento perché sono in una famiglia completamente americana e grazie a questo potrò assaggiare i vari cibi e i vari posti potrò scoprire della California. Ciao. Ciao. Ciao.